Sono tradizioni che si perdono nel tempo ma che per la prima volta rischiano di saltare. A San Martino in Pensilis, Ururi e Porto Cannone non si parla d'altro dopo l'operazione dei carabinieri che ha portato al sequestro preventivo dei buoi, dei cavalli e dei carri nelle stalle dei tre paesi. Il rischio è concreto se si pensa che la carese di San Martino è in programma il 30 aprile, quella di Ururi, il 3 maggio. È dunque una corsa contro il tempo per presentare i ricorsi. Saranno depositati lunedì mattina al Tribunale di Larino e a quello del riesame di Campobasso. Obiettivo chiedere la revoca della misura che di fatto ha reso indisponibili gli animali impiegati per lo svolgimento delle manifestazioni popolari. Si tratta di un ricorso molto fondato, hanno spiegato i promotori, e dal nostro punto di vista ci sono le condizioni per ottenere la revoca del provvedimento. Il tempo è poco, ci sono le indagini coordinate dalla Procura di Larino che sempre lunedì illustrerà i dettagli dell'inchiesta che coinvolge a vario titolo diversi indagati per il maltrattamento di animali, utilizzo di farmaci e la violazione di quanto disposto dall'ordinanza Martini. Il dibattito è accesissimo dalle strade ai social network, dove i post e i commenti non si contano più. Per l'assessore regionale Vittorino Facciolla, già sindaco di San Martino, i provvedimenti giudiziari, se ingiusti, vanno impugnati nelle sedi opportune. Ed è ciò che faremo, convinti che il rispetto delle norme e la tutela del benessere animale appartengono all'identità dei cittadini di San Martino, Porto Cannone e Ururi. Questo, aggiunto su Facebook, è il momento di dimostrare che sappiamo stare insieme in onore dei nostri santi protettori e della storia millenaria della nostra tradizione. Da un lato ci sono dunque le indagini e i sequesti dei carabinieri, dall'altro c'è la difesa di tradizioni millenarie, che per le comunità del Basso Molise rappresentano il senso delle origini e di una lunga storia. In serata a San Martino, una fiaccolata dalla Madonnina fino alla Chiesa Madre, lungo l'ultimo tratto della Carreste, con i carristi, i parroci e i cittadini.